Si è dedicata in tutta la sua immensa bellezza. Sto parlando di lei, Federica Pellegrini, la famosa montatrice italiana che non ha perso tempo e si è dedicata a, per così dire, prendersi un momento di pausa e di tranquillità nelle cristallinissime acque delle maldive, dove si trova per l'appunto la bella fede e nuota, fluttua in queste acque così pure, limpide e pulite, tanto che, pensate, il video che dura pochi secondi, pochi istanti, viene però visto da centinaia di migliaia di persone. Una Federica Pellegrini nuova, una Federica Pellegrini bella, una Federica Pellegrini estremamente affascinante e intrigante, quella che si può vedere in questo piccolo video dal sapone mistico. Nuota dunque frutto in queste acque pulitissime, in queste acque cristalline, in compagnia di una tartaruga d'acqua salata, che ovviamente è presente nel mare, nell'oceano in cui la nuota e che fa da compagnia a questa straordinaria ragazza italiana. Bene, complimenti dunque a Federica Pellegrini, il video termina qua, un saluto e a presto.